Allora, altro piccolissimo trucco per capirci qualche cosa in una cartella dove le cose sono messe in maniera un po' casuale. Qui per trovare delle cose qui all'interno di questa scena è un po' complicato perché non c'è un ordine, quindi se dovessi cercare una cosa che si chiama in un certo modo è difficile trovarla. Sistema molto semplice, andate in Edit Preferences e qui abilitate nelle generali Enable Alpha Numbering, Numeric Sorting. A questo punto abilitando questa opzione qui compare questa possibilità che permette di vedere l'alfabetical sorting e quindi diventa anche più facile. Ad esempio io cercavo Receiver, lo troviamo in ordine alfabetico, tutto molto più semplice.